Ciao a tutti amici, qui è Friomero e oggi siamo tornati con un bellissimo video Ragazzi oggi siamo in questa mappa perché è mille anni che non porto una mappa Oggi siamo su una mappa molto particolare che hanno portato anche altri youtuber E' stata creata da Penquit Qua c'è Twitter e qua c'è Youtube Che poi Youtube è un canale normale Non è un canale di gaming da quanto ho visto Qua ti dice Devi prendere 5 smeraldi Devi completare le missioni che ti dicono i villager E devi stare attento allo tsunami che arriverà Allora Le regole Allora stai in modalità avventura Distruggi i blocchi che devi distruggere Gioca in giocatore singolo Rispetta mia mamma E nuota Per la fine Per... non ho capito E gioca in 1.8 Qua si inizia il gioco Ci da le solite cosine Allora Direi di andare come prima cosa da E il trade 5 pork shops for un emerald You can kill my pigs Va bene Devo uccidere i maiali Pecchio ai polli Perché mi danno così tanta carne Ok Tieni le tue pork shops Cosa vuoi Selly Quindi sei una lei Quindi sei una lei Ehi there I near you are I need some of emeralds Che inglese perfetto If you call me some melons From inside the jungle I will give you one Please hurry it out The villagers get quite hungry Ok Allora I meloni I meloni Andiamo di qui Direi Oh I melons Ok Direi che è abbastanza 59 fette di melons Direi che sono abbastanza Andiamo dal villico Ehi villico In teoria avrei già vinto Però voglio anche vedere Cosa hanno gli altri Allora Tu Lil Jimmy Vabbè Little Jimmy Sarà Hey there I need some Sands Will You get some I think there is Sonia The pig pen Pig pen Non è un gioco di parole Ma vuol dire Porcile Il porcile è quello là Però I really want to Upgrade my Sandcastle By the Way My Mommy Give me a lollipop Eh Tu vuoi il lollipop? Tu Caro amico mio Cos'è che vuoi? Bill Allora Tu Fancy Son fishing Give me the fish And you get an emerald Qua ci sono dei fish E lui vuole Fish and chips Quindi dobbiamo Metterci A pescare E nonno che non ti accontenti Sì 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 E non farti più vedere Infamone Dammi Sto smeraldo Sto smeraldo Ma Ma Eh ci deve essere stato un errore E' aperto Scusi Ma E' in casa Ah e Le serve del ferro Magari quando torniamo Chi lo sa Magari lui ci va in casa Si è tornato al vulcano Comunque Cavolo Scotta No No Non voglio diventare un polletto Eh Non voglio essere un galletto arrosto Santo cielo Aspetta Aspettiamo un attimo Magari poi torna One eternity later Eh l'ho aspettata per mezz'ora Come sta Bear Signor Bear Ma li vuole questi Dammi il mio smeraldo Oh Finalmente Che vedo già Che sta arrivando lo tsunami Guarda Siamo tutti felici Mi dispiace voi Eh però Io 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 C'ho I soldi E' Santo cielo Eh Eh mi dia il resto Eh Eh cosa si vuole Tenere la mancetta Eh no Non gli avrò la mancetta Eh Che mi ha fatto tribunare Lei Ma se li metto questa Davvero Anche pelo YOLO Sì Sì ho vinto Sì ho vinto Oh madonna Mi dispiace Mi dispiace Però Ascoltate Voi mi avete fatto pagare Ma avete fatto pagare Adesso Questa è la Almeno la fine Che vi aspetta No Eh mi sembra giusto Eh sì o no ragazzi Sì o no Ah Guardiamo un po' qua Guardate Com'è la storia Che viene scherzato E poi lo scienziatino Di fuori Che mi ha fatto pagare Eccolo lì Guarda Ha preso il volo Guardalo Ah ma mi chiedi ancora Mi chiedi ancora I soldi Bruto Ignorante Ma ti mando la deriva Io a te Ebbene ragazzi Questo video Termina qui Ragazzi È durato Veramente Un casino Quanti minuti Di registrazione E niente ragazzi In descrizione Trovate tutti i miei social Instagram E anche il mio canale Iscrivetevi Perché se non l'avete ancora fatto Così potrete trovare Delle nuove mappette Carine come questa E direi che noi ci vediamo In un prossimo Video Buona giornata E ciao da Free Bomber Buona giornata